Beh, se esigo secondo me se lo porti a chi prova a portarlo su YouTube, che non credo sia troppo ripensato Mmm, Pumpe non lo registra più su YouTube, ormai li fa solo... Twitch? Si, fai best moment, vedi? Si, però comunque secondo me qualcosa li potrebbe più fare, delle cose Boh, io non lo so, io non posso portare Twitch perché non riesco a crearci un canale Twitch Ma se avverrà, se ci riuscirei, se ci riuscirei, io lo farei Io gli ho, io sono dicendo soltanto di non asfidarmi con le viste Eh, lo so, lo so Ho iniziato ad esagerare Vabbè, lascia non parlare Con le insultazioni Con le ultime C'è Grande Marino, scusa stamattina stavo dormendo Uh, bello Marino Vedi? Ah, sei Marino? Salutate tutti Marino, ciao Marino, vedi che ti salutano tutti, grande Ciao Marino Vedi? Adesso appena muoio Salutate anche... Dovete... Dovete... Dovete salutare anche Iside, che è un Marino Tu prima non c'eri, è successa una scena bellissima Cosa di me? Rago, aspettate, salutate anche Iside No, saluta... No, saluta anche Iside prima, se no non vi parlo più Ciao Iside Iside Iside? No, no, vengo io da voi Ah, li ho visti, li ho visti Eh, aspetta che arrivo in seba Sono tre Eh, ci aggiorniamo domani Bene, ti aspetto per la live retro Marino Ma già i giochi Comunque ti stavo dicendo Finisce sul best of Comunque Io ho colto Le shield a due Sì, finisce direttamente sul best of Che bello Ciao mamma, sono su YouTube Una terra Oh, c'è dente da me, eh Bandi Ahia, c'è una trappola, c'è una trappola Grandi Curalo, valla a curare Curalo, curalo Sono fedele Viedo a finire la casa di carta Sono qua da solo Che sto fumando Grande Marino Lasciami un po' di materiali Entro, ma non è Sì, vito Qua Cazzo Aiuti Prendo un pochino di rute di quello che ho killato Grande Thomas Pompi, pompa, pompa, dove c'è? Pompi, dove c'è? Qua Eh, ce l'ho medichi C'ho il medichi Però, ce l'ho, ce l'ho Uno shieldone Basta, basta Io, vabbè, lo tengo Chi è? Ho tirato io Ho tirato io Ho tirato io Per, per, per Mi sa Questi qua Li ho ammazzati male Li ho ammazzati con l'infanteria Li abbiamo aperti in 5 C'è altra gente, mi sa Lì al Lì al... Dove? Vabbè, stiamo qua in zona Fino a... Stiamo qua in zona Ok, raga La... Eh, aspetta, rispetta Come su me? Stiamo fightando? Sì, stanno fightando Eh, non... C'è un momento Ora puntiamo Ragazzi, ragazzi Ragazzi, ragazzi Ragazzi, ragazzi, ragazzi Ragazzi, ragazzi, ragazzi Non so, puntiamo No, no, lascia Vediamo la prossima Sele, adesso Si muove la sele Mi nascondo nelle frasche Ok, nascondo Io sto vedendo Con l'infanteria Quello non lo può Sittare male Ma non l'ho dito Perché se no Mi verrà Ok, ragazzi Sono nascosto Sono imboscato Alla prossima Sele dove va? Dai, vai in safe Non lascialo stare Vai in safe Prima C'è gente qua C'è gente C'è gente qua C'è gente qua Ho intato uno Ma cosa hai intato? Vieni qua Va Ah, ma là C'è gente Eh, sì Andiamo sul drop Vieni sul drop Andate sul drop Manca solo questo Vai sul drop E questa pompa è Io sto seguendo pompa Sulla mappa Dove Ragazzi, io ho due slot Di inventare Ho ancora Niente, bene Ci sono due robot Venite sul drop E muovetevi Sto guardando Anzi Aspetta Magari non venite sul drop Non venite sul drop Ti ho visto Ti ho visto Bombe Sì, è stato di inserare Sì, è stato di inserare Sì, è stato di inserare E vieni nel grano Nascondiamoci nel grano Eh ma se gli sparate Li buttate giù Da lontano Eh Spara Spara con quel cannone Lì Spargli E' combattuto con una grande marina! Sfigati! Non gufi? Attenzione! Quanti andare a prendere la scheda? Eh non ci lasciamo la bomba! Ah no, non andate, non andate! Mi chiedo un attimo, mi chiedo un attimo questa palata! No, che spari? Ma è stato uno di due! Sì, no, no, state nascosti perché... Poi siete due contro... sono le squad queste, era tre contro squad, tre contro quattro. Io sono qui per controllare, non sparo! Farò cadere quello là! Raga, ho preso la scheda! Che l'ho fatto? E sono andato in silenzio! Non cerco di curarlo! Cerco di curarlo! Sì, no, vai, vai! Sto andando in safe! Raga, c'è un bot che mi sono di fianco! Vai! E' il medikit! Tanto ho un pompa per terra! E' una delle ultime! Ha il medikit, ci facciamo il medikit! Tieni pompa! Eh! Tieni pompa! Eh! Hai anche due colpi? Eh, di cosa? Eh, del pompa! C'è anche una cappa blu! Tieni! Bene! Grande! Io sono a posto con pompa, però non ne ho troppo pochi! Va bene! Va bene! Va bene! Ragazzi, andiamo in silenzio! Adesso non esagerarlo! Siamo riusciti a curarti almeno a pompa! Almeno non siamo in svantaggio! Siamo in svantaggio! Cioè, oddio! No, pompa! Non sparare! Eh! Ma si! Sparate tutti! Ci stanno sparando anche loro! Eh! Mi hanno lasciato! Sì! 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 Venite in safe! Non state lì che siete fuori dalle safe! Ma gli amici che non... Eh! Forza! Cazzo l'entere! Ecco dove ho... Staccareva! Siete a venire di qua? Te la fate? Sì! Sì! Vai tra! E scendi da quel roba là sopra! 5! 5! Lo vittatissimo! Ok! Lo vedo! Qui! Vabbè! E' sceso! E' si muove! E' morto! Ma io non mi ha preso più! Non mi ha preso da nè! Non mi ha preso da nè! mou... Da sopra... Da sopra! C'è scocciato questo! Dove sta andando? Morto! E' ci è scocciato! State! Otto che arrivano da sopra! Da sopra! Un'altra mou... Da sopra! Maleda! State! Avete i colpi AR per caso? Sì, tieni, buon pè. Io ne ho pochi. Va bene, va bene. Va bene. Io ho un bagazzi. Raga, avete un pochino di materiali? Io ho 500, 143, 163. Noi abbiamo un drop. E se vieni... E se vieni... E se vieni... E se vieni... Ha rotto il cavolo. Due. No, è uno di teo, va bene. No. Io non ho più niente da dare. Pompè. Eh? Andee. Vuoi aggacciare i tuoi? Raga no, mi lagga. Come ti lagga? No. Ok, ora no. Ragazzi uno qua. Ragazzi uno qua. No, sì. Ragazzi insieme a quelli su. Ragazzi capisci. Ragazzi, 3 contro 4. Quelli su ci sono ancora. 41. 33. Overboard. Vabbè, ci possiamo ammazzare qualcosa qua con l'overboard? Eh, proviamo. Ok. Mi sei adattato. Mi sei adattato. Mi sei adattato. Mi sei adattato. Mi sei adattato le 3. Aspettate. Vedi, devo venire giù eh. Arrivano. No, avevo preso. 32. 31. Salta. Non dico il PR io. Io sono qua con te. Sopra. Ragazzi te la uno. Molto buono. Buono, buonissimo. Ehm. Woaaa! Oyee. Oma. Easy. Ehm. Ehm. Da Croce. Ehm. 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 Grazie a tutti.